Ciao a tutti e ben ritrovati a un giorno in rsd Fondazione Stefania. Siamo qui con Anna Rita, la nostra maestra d'arte, che oggi ci presenterà il nostro terzo tutorial che avrà come soggetto il volto. Infatti il titolo del tutorial è quel che dice il volto. Ci scusiamo per l'attesa dell'uscita di questo video, infatti abbiamo avuto durante le feste un periodo un po' burascoso qui in Fondazione, ma ora si è risolto e quindi siamo carichi come prima, e le nostre ragazze stanno tutti bene. Vi auguro buona visione e adesso lascio la parola alla mia collega Anna Rita. Ciao a tutti, benvenuti al nostro terzo tutorial. Oggi parleremo di un altro importante tema artistico che è quello del volto, quindi del ritratto ed eventualmente anche dell'autoritratto. Il volto è una parte fondamentale dell'autonomia umana e può esprimere diverse emozioni. Il volto è l'elemento principale della figura umana. Per raffigurare un volto ciò che importa è di rappresentare il viso con, come posso dire, la descrizione delle sue caratteristiche individuali. Nel corso della storia dell'arte che diciamo che quasi tutti gli artisti hanno praticato questo genere. L'uomo ha sempre avuto il desiderio di lasciare una traccia praticamente. Quello che adesso più semplicemente noi facciamo con la macchina fotografica o con il nostro telefonino, per esempio facendoci un selfie che corrisponde al nostro autoritratto e così lasciamo le nostre immagini nel tempo. Nella trascrizione schematica delle parti del corpo, per mezzo di figure geometriche, la testa è paragonata ad un ovale che però può avere delle proporzioni diverse a seconda della persona che abbiamo davanti. A parte la somiglianza esteriore, l'importante di un ritratto è direi l'espressione. Il modello per il vostro studio di una testa o di un volto, che potete più facilmente avere sotto mano, è sempre la vostra immagine riflessa nello specchio. Uno dei più grandi pittori di tutti i tempi è Erika Rembrandt, maestro dell'arte olandese del Seicento. Ha realizzato nella vita oltre un centinale di autoritratti, nei quali appare sempre diverso, sia nelle espressioni del volto che nelle diverse fasi della vita. In poche parole, se noi mettiamo in fila i suoi autoritratti, si potrebbe leggere benissimo la storia della sua vita. Noi invece lo facciamo attraverso la fotografia. Ora vi farò vedere alcuni riflatti di trattori famosissimi. Per esempio il primo, lo conoscerete tutti, è La Gioconda di Leonardo, che è stata dipinta tra il 1503 e il 1504. Figura enigmatica e androgina, appunto, ritratta da Leonardo da Vinci. Poi un ritratto della moglie Jane di Amedeo Modigliani del 1917-18. Il ritratto di Dora Mara seduta musa di Picasso del 1937. e la famosissima Marilyn Monroe di Andy Warhol, più recente del 1967. Ora, se osserviamo il nostro volto oppure il volto di un'altra persona, noteremo che non sempre appare ai nostri occhi la stessa espressione. Secondo gli esperti, le emozioni primarie dell'uomo sono all'incirca sei. E qui vi faccio alcuni esempi. La persona felice, una persona triste, una arrabbiata e una sorpresa. Allora, secondo gli esperti, come vi avevo detto, le emozioni primarie dell'uomo sono all'incirca sei. Ma grazie però ai nostri muscoli facciali, noi siamo in grado di esprimermi molte ma molte di più. Se noi proviamo per esempio a prendere uno specchietto da trucco oppure a metterci di fronte ad uno specchio che abbiamo a casa e ci esercitiamo a fare diverse espressioni, non so, provando per esempio a sorridere, a ridere di gusto, a piangere, ad essere felice, arrabbiato oppure a fare un'espressione di disgusto, noteremo che i vari movimenti della bocca e degli occhi cambiano la forma del nostro viso. Ora vi farò vedere i vari passaggi per come disegnare un volto. Allora, prendiamo semplicemente della carta semplice, un penarello, una mattita, quello che volete e cominciamo a, innanzitutto, osservare le proporzioni di una testa e cominciamo a tracciare il nostro ovale. Allora, cercando di farlo più grande nella parte superiore e più affusolato nella parte inferiore. praticamente tipo un uovo. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio sarà quello di praticamente inserire all'interno del nostro ovale una linea verticale che taglia a metà, diciamo, la nostra testa, il nostro volto. Nel terzo passaggio, io lo farei sempre qua, inseriamo anche una linea orizzontale a metà. Facciamo in poche parole una croce e dividiamo il nostro volto in quattro parti. Ora possiamo inserire un attimo per rifare l'ovale di nuovo. Allora facciamo l'ovale. Rifacciamo i passaggi di prima. tagliamo a metà con la linea verticale e anche con una metà dall'altra parte, con una linea orizzontale. e poi inseriamo nella metà superiore una linea parallela a quella orizzontale che abbiamo già fatto e dividiamo a metà questa parte. E nella parte inferiore facciamo la stessa identica cosa, mettendo una linea parallela più sotto. Allora adesso sulle righe tracciate disegniamo le varie componenti del nostro volto. Allora io direi che in corrispondenza della linea verticale e della prima linea che abbiamo tracciato orizzontale, ossia quella in mezzo, andiamo a rifinire il nostro naso. Io adesso lo faccio molto molto semplice perché dobbiamo fare una cosa abbastanza veloce. Nella parte della linea invece orizzontale superiore andremo a mettere i nostri occhi. Nella linea orizzontale inferiore andremo a posizionare la nostra bocca. Se vogliamo andare a vedere le proporzioni, praticamente la fine della nostra bocca deve corrispondere con la metà delle nostre pupille. Generalmente, io adesso sono andata a mano libera e non ho mantenuto le proporzioni vere e proprie, ma generalmente tra un occhio e l'altro è come se ci fosse in misura un terzo occhio. La distanza tra un occhio e l'altro dovrebbe essere un terzo occhio. Se poi vogliamo andare a posizionare le orecchie, a fare le orecchie, ne andremo a fare dalla linea centrale orizzontale alla linea dove abbiamo posizionato gli occhi. Così. Allora, praticamente le orecchie vanno posizionate tra la linea del naso e l'estremità più o meno degli occhi o delle sopracciglia. Se poi vogliamo sopra gli occhi per definire, per migliorare lo sguardo, possiamo disegnare le sopracciglia. Per definire lo sguardo possiamo posizionare le sopracciglia. A questo punto poi possiamo arricchirlo mettendo i capelli, un paio di orecchini se si tratta di una figura femminile, un cappello, un paio di baffi, una barba, possiamo aggiungere il collo, mettere una camicia, possiamo aggiungere le spalle e così via per arricchire appunto il nostro volto. Allora, per esempio, nello stile di Picasso, che è uno stile inconformibile nella pittura cubista, le figure che lui ritrae si scompongono nei suoi quadri, quasi sconvolgendo tutti i canoni delle proporzioni. Quindi se tu vuoi, sei anche libero di disegnare e realizzare un ritratto cubista alla maniera di Picasso, quindi senza rispettare le proporzioni e puoi essere anche fuori da tutte le regole convenzionali. Allora, il segreto di Picasso per realizzare per esempio questo quadro è quello di fissare diversi punti di vista da cui osservare il soggetto. Se noi guardiamo con attenzione il viso rappresentato, quindi il viso di Dora Mare in questo quadro, sembra quasi un collage, cioè sembrano tanti pezzi che però non combaciano perfettamente. Si può dire infatti che l'opera si ha un po' un insieme di molteplici foto scattate intorno alla modella. Dora Mare era una donna molto bella e questo dipinto è un po' distante dalla rappresentazione tradizionale, perché i tratti distintivi della donna però sono riconoscibili, come donna elegante, donna sofisticata, con le mani affusolate, unghie smaltate eccetera. Però, come dicevo prima, è fuori dalle regole convenzionali. Allora, potete utilizzare per il vostro ritratto o autoritratto qualsiasi tipo di tecnica, proprio liberamente. Potete appunto, qui ho messo alcuni materiali, usare sia le acquarelli che le chine, piuttosto che gli acrilici, le tempere, penarelli, pastelli, ma anche in bianco e nero semplicemente con delle mattite. E niente ragazzi, vi auguro buon lavoro, vi auguro anche un buon divertimento. Volevo lasciarvi dicendovi questa cosa, che noi generalmente lasciamo trasparire attraverso la nostra mimica facciale le nostre emozioni. E quindi immaginate quanto è importante comunicare anche attraverso il linguaggio non verbale. Ciao! 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 Allora, eccoci arrivati alla fine anche di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate seguito le istruzioni di analità. Io vi chiedo di continuare a mandarci i vostri lavori all'indirizzo per Forsi chiocciola fondazionestevania.it ce ne state mandando numerosi e noi praticamente vi daremo un rimando nell'ultimo tutorial che uscirà a fine febbraio quindi vi chiedo appunto ancora di partecipare con noi e di continuare a lavorare con noi come stanno facendo appunto i ragazzi io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo tra circa un mese con il quarto tutorial che sarà anche l'ultimo ciao e grazie mille a tutti grazie a tutti